Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in questo aprile per raccontarvi quello che accadeva nell'aprile del 1913 il 7 di aprile Sicuramente in quei giorni Padre Pio non stette realmente bene perché ebbe una visione dove Gesù gli mostrò qualcosa in cui lui sicuramente non avrà dormito la notte per quello che ha visto Da Pietrelcina il 7 aprile Padre Pio che era sacerdote da quasi tre anni scrive a Padre Agostino il suo precettore Mio carissimo padre, venerdì mattina ero ancora a letto quando mi apparve Gesù tutto malconcio e sfigurato Ecco, non è una coincidenza che gli apparve Gesù di venerdì Gli mostrò una moltitudine di sacerdoti regolari, secolari tra i quali diversi dignitari ecclesiastici di questi gli stava chi stava celebrando, chi stava parando chi si stava svestendo dalle sacrie vesti La vista di Gesù in angustie, scrive Padre Pio, mi dava molta pena perciò vogli domandare che cosa lo facesse soffrire nessuna risposta ne ebbi però il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di guardare ritirò il suo sguardo e allorché lo rialzò verso di me con grande mio orrore osservai due lacrime che gli solcavano le gote Di che cosa si trattava? Si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto gli gridò Macellai E poi in rivolto verso Padre Pio gli disse Figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di tre ore No, io sarò per cagione delle anime da me più beneficati in agonia fino alla fine del mondo Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, non bisogna dormire L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana ma ahimè mi lasciano solo sotto il peso di questa indifferenza L'ingratitudine e il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia Ohimè Come corrispondono male al mio amore Ciò che più mi affligge è che costoro al loro indifferentissimo Aggiungono il loro disprezzo, l'incredulità Quante volte ero lì per fulminarli Se non ne fossi stato trattenuto dagli angeli, dalle anime, da me innamorate Scrivi al Padre tuo e narrali tutto ciò che hai visto E che hai sentito da me questa mattina Dilli che mostrasse questa lettera al Padre provinciale Cosa che poi Padre Pio ha fatto Ha scritto a Padre Agostino E Padre Agostino l'ha mostrata al suo provinciale Però Gesù continuò ancora Ma quello che disse, scrive Padre Pio Non potrò giammai rivelarlo a nessuna creatura di questo mondo Pensate un po' Questa apparizione mi cagionò tale dolore nel corpo Ma più ancora nell'anima Che per tutta la giornata fui prostrato Ed avrei creduto di morirne Se il dolcissimo Gesù non mi avesse già rivelato E poi utilizza dei puntini di sospensione E non continua E non continua